Allora la seconda parte comincia a mettere il focus sulla proprietà intellettuale sui dati, questa è una lezione su Data Governance quindi dobbiamo soffermarci più su quello. Quello che vi dicevo già prima, facciamoci la domanda, ma c'è davvero un copyright sui dati? Perché tecnicamente come vi ho spiegato non esiste un copyright sul dato in sé, sulla singola informazione. Prima vi ho fatto l'esempio del dato sui morti da Covid di ieri, oppure il fiume Po è lungo 612 km, cioè quell'informazione lì non appartiene a nessuno. Diverso è se io faccio una banca dati di tutti i fiumi italiani, di tutti i fiumi europei organizzati per lunghezza, dal più lungo al più corto, o al contrario dal più corto al più lungo. Allora i singoli dati messi in un calderone più ampio e organizzati secondo un criterio, anche se è un criterio banale, cioè dal più lungo al più corto, dal più corto al più lungo, quella roba lì comincia ad avere una forma, a prendere una forma di banca dati su cui allora comincia a pensare, si può cominciare a pensare che ci sia una proprietà intellettuale, che ci sia un diritto. Ecco perché, e lo dice una direttiva, cioè questa, diciamo, le norme sulla tutela delle banche dati derivano per tutti i paesi europei da una direttiva che è del 96, la direttiva 96-9-CE, che ha introdotto un particolare regime di tutela per le banche dati, che agisce su più livelli, cioè fino al 96 non è che le banche dati non fossero tutelate per nulla, potevano essere tutelate utilizzando il vecchio diritto d'autore, il diritto d'autore in senso generico, solo che in alcuni casi la banca dati non è sufficientemente creativa per dire che c'è un diritto d'autore. L'esempio che vi ho fatto prima, tutti i fiumi d'Italia o tutti i fiumi d'Europa dal più lungo al più corto, non c'è creatività in questa banca dati, perché? Perché una volta che ho raccolto i dati di tutti questi fiumi, basta che li metto in un file Excel e lui mi li ordina automaticamente dal più lungo al più corto, perché è un dato numerico. E quindi, come potete capire, il criterio in cui viene organizzata questa banca dati non è sufficientemente creativo per poter dire che c'è un diritto d'autore, un copyright vero. E dunque, questa direttiva appunto ha aggiunto quel livello, cioè ha aggiunto il fatto che si tutelino non solo le banche dati creative, ma anche le banche dati non creative, che però hanno richiesto un forte investimento per la loro realizzazione. Questo diritto appunto viene chiamato diritto sui generis o database right, e come vedete, vabbè, ho spiegato appunto, quindi non è che sono tutelate le banche dati, scusate, non sono tutelati i dati in sé, ma la banca dati, possiamo chiamarla in inglese database, e quindi i dati sono tutelati solo quando vengono raccolti in una forma organizzata, in un insieme aggregato, organizzato di dati, che viene chiamato banca dati. Ripeto, poi in questo discorso dei due livelli comincia già ad arrivare ad un, insomma, ad un dettaglio ancora maggiore, non riusciamo ad approfondirlo, però ecco, tenete presente che ci sono queste due forme di tutela per la banca dati, uno è il diritto d'autore classico, quando la banca dati è creativa, quando la banca dati invece è non creativa, ed è il caso più frequente in realtà, quando parliamo di big data, ad esempio, sono dati che vengono raccolti automaticamente dai software, dai sistemi automatizzati, e vengono messi su un server, che quasi sempre li raccoglie sulla base di un criterio schematico, numerico, un csv, il csv è quel classico file che raccoglie dei dati, li divide con delle virgole, molto essenziale, però a volte quelle sono le vere masse di dati che ci servono per fare rilevazioni, per fare previsioni, per fare proiezioni, via dicendo, e quella roba lì genera un business, quindi c'è molta, adesso, attenzione su questa forma di tutela delle banche dati, ok? E, nel senso, non vi dico tanto di più, ripeto, a massimo vi posso rimandare, nell'ultima slide ho messo un link ad una mia lezione sul diritto sui generis e sulle banche di dati, però, ripeto, a noi interessa per adesso avere questa informazione.